Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccare, ho capito che cerca di fermi la corte, ma non mi tocci. Bisogna che tu impari a relazionarti con le altre ospiti. Chi è? Non è nuova, non è nuova, non è nuova. Tentatevo di succedere in detenzione. Te un po' di cazzi tu hai mai. Mi scusi a lei, la dottoressa? Beatrice, poi, che è? Sto socializzando qui. No, si sta impicciando, avanti, per cortesia. Per esempio, come te la cava questa a Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. E praticamente la hai spugnata. C'è un autobus! Venite! Lo aspettiamo stasera per piacere, una bravata. No, la macchina, no! La macchina! È Tchaikovsky, eh? Viva la macchina! Non usa la macchina! E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene. Viva la macchina. Viva la macchina. Ricciando. ossi Papa